Si tramanda anche una filastrocca che va appunto ad evidenziare quanto è triste e scondo questo periodo di quaresima. Buon salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi come vi avevo promesso settimana scorsa ci ritroviamo qui con un nuovo episodio di Calabria Arcana. È inutile che io faccia di nuovo tutto il preambolo del video precedente per cui se non sapete cos'è Calabria Arcana perché ho realizzato questa rubrica vi rimando a tutti i video precedenti di questa parte del canale che amate particolarmente e noi andiamo avanti. Quindi trovate i link degli altri episodi che ho già trattato su nelle schede giù nell'info box appunto con la playlist linkata. Come avrete visto dicevo nel video precedente oggi andiamo a trattare un argomento che è praticamente il prosieguo del video della settimana scorsa quindi il video sul funerale di Re Carnevale, la morte di Re Carnevale. Ecco quello si collega all'argomento di oggi e come avrete visto dalle immagini in anteprima oggi parleremo finalmente di un rito che prende in considerazione una figura femminile sì ma anche un fantoccio, una bambola. So che tanti di voi sono appassionati di bambole che amano l'aspetto anche un po' misterioso di questi fantocci rituali e oggi siamo qui per scoprire cosa significa possedere, continuare una tradizione legata alle bambole quaresima e perché sono nate, qual è il senso profondo di questo fantoccio rituale. Sono felicissima di dirvi che oggi sarà presente in questo video un ospite. Era uno dei miei propositi per il 2021, se vi siete persi il video sui miei propositi del 2021, vi lascio il link su nelle schede e giù nell'info box. Volevo insomma avere ospiti sul mio canale, persone di rilievo e oggi vi porto su questi schermi il grandissimo, il mio caro amico Andrea Bressi che è il referente delle bambole quaresima per la Calabria. Quindi se voi cercate qualcuno per poter parlare delle bambole quaresima, insomma adesso vi spiegheremo ecco, potete riferirvi a lui. Andrea è un libero ricercatore, è un ragazzo molto giovane che da tantissimi anni, da circa 15 anni in realtà fa ricerca proprio sulle bambole quaresimali, sulle coraissime, come si chiamano in Calabria e porta avanti anche progetti nelle scuole, nelle proloco o in generale da sé. È davvero un ragazzo di cuore, quindi sono felicissima davvero di averlo su questi schermi. Soprattutto lui fa parte di una rete di ricercatori, di antropologi che studiano proprio le bambole quaresima, specialmente nel sud Italia. Ma se avete contezza di qualche altro esempio di bambole quaresimali anche in altre regioni dell'Italia, ma anche fuori dall'Italia, perché comunque è un rito che si espande e che non si trova soltanto nel profondo sud, potete tranquillamente scrivere a lui perché è un ragazzo davvero alla mano e risponde a tutti quanti. È fantastico, quindi sono felicissima di averlo qui sui miei canali. Inoltre lui è anche etnomusicologo, studia canti e musica della tradizione popolare calabrese insomma ne sa una più del diavolo. Non posso essere più felice di così di introdurli appunto all'argomento. Devo iniziare prima di partire proprio con il fulcro del discorso dicendovi che questo per me è stato un progetto pratico, quindi questo video non è frutto esclusivamente di ricerca sulle fonti, ma anche ricerca sul campo che avevo già fatto diversi anni fa per la mia tesi, grazie alla quale avevo già collaborato con Andrea, quindi sono felicissima ancora, ma quest'anno ho anche realizzato la mia bambola quaresimale che al momento non vedete qui perché è già appesa, adesso capirete perché, ma vi farò vedere chiaramente dei video. Noi dove ci eravamo lasciati nello scorso video avevamo abbandonato il povero carnevale che si era fatto personaggio sul rogo. Era morto appunto carnevale per eccessi alimentari, carnevale morì o pichi mangiò troppo e oggi parliamo quindi della seconda parte del prosieguo come vi dicevo del video di dire carnevale, per questo sono convinta che dovreste vedere il video precedente perché comunque è in parte propedeutico alla comprensione di quello di cui andiamo a parlare oggi. Ad ogni modo riprendendo le fila del discorso, martedì grasso, quindi martedì della scorsa settimana, c'eravamo lasciati con carnevale, re carnevale bruciato sul rogo, già morto e quello era il martedì dell'alzata, quindi un martedì d'alzata, come si usa a dire dalle mie parti, è il martedì in cui muore carnevale e la notte del martedì dell'alzata è il momento in cui entra in scena la quaresima. Si chiamava, come diceva, come dice mia nonna, martedì dell'alzata perché venivano alzate per l'appunto tutte le salsicce, perché nel mese di gennaio, febbraio c'è il rito della maialatura in Calabria, venivano portate queste salsicce alzate sul tavolato. Come ci dice la Stancati nel suo volume Nicastroieri, il gran falò e la cremazione di re carnevale annunziano la fine della festa, quindi il giorno seguente, mercoledì delle ceneri, segnerà l'inizio della quaresima. L'astinenza e la penitenza della quaresima viene annunciata grazie all'utilizzo di un detto popolare che si trova con delle varianti in realtà abbastanza minime in tutta la Calabria. E si dice proprio così, ed è un vero e proprio monito perché ci permette di capire come i cibi grassi, succulenti, vengono messi da parte per favorire l'ingresso semplicemente di cibi magri di digiuno, ovvero pesci e sarde salate. Quindi da qui vediamo come vi sia uno scontro, un contrasto tra la figura di carnevale e quella di sua moglie quaresima. Difatti se carnevale è grasso, la vecchia invece è maciata, secca, brutta, quindi una figura orrorifica, ma di questo specifico punto è soprattutto dei simboli che ornano la coreissima perché noi non vediamo mai solo esclusivamente una bambola, ma vediamo altri simboli che la formano come vi ho mostrato nelle immagini in anteprima, ci parla appunto Andrea Bressi che ha preparato per noi una piccola lezione di cui io sono veramente veramente contenta. Lui in questo periodo è molto impegnato quindi mi ha fatto un favore enorme, quindi lascio la parola al ricercatore Andrea Bressi. Mortore Carnevale resta il dolore della moglie quaresima, in Calabria Coraglissima, che nell'immaginario popolare è rappresentata da una donna dalle brutte sembianze, alta e secca, appunto Coraglissima. Coraglissima è anche un calendario rurale del periodo quaresimale, veniva realizzato sotto forma di fantoccio, è esposto alle finestre e balconi o sospeso a un filo testo da una casa a un'altra, il mercoledì delle genere, proprio ad inizio della quaresima. Esporre questo fantoccio rituale significava decretare la propria adesione alle restrizioni del periodo quaresimale. Coraglissima, vestita a lutto appunto perché è la vedova di Re Carnevale, ha dei simboli, il fuso e la rocca, la gonocchia, con il filo, appunto a rappresentare il trascorrere di questo periodo lungo di 40 giorni di penitenza e restrizioni appunto. E aveva una funzione calanderiale affidata alle sette penne di gallina conficcate in un'arancia, in una patata o dolvolta al limone, poste in testa o ai piedi di queste bambole. Per contare le domeniche che precedevano la Pasqua, avevano bisogno di un riferimento. Ogni domenica che le trascorreva si sfilava una penna. L'ultima, tirata nel giorno del sabato santo della domenica di Pasqua, annunciava la fine di questo lungo periodo di restrizioni e annunciava la gioia della Pasqua insieme alla campane che rintoccavano a festa per la risurrezione di Cristo. Vincenzo d'Orsa, nel suo volume, La tradizione greco-latina negli usi e nelle credenze popolari della Calabria citeriore, dice candidamente Marzo in Calabria è il mese della Quaresima. E questa suole rappresentarsi sotto il simbolo di una brutta vecchia, fantoccio fatto di cenci con conocchia e fuso in mano, con sette penne indicanti le sette settimane e si appende alle finestre. Tra l'altro, proprio grazie agli studi effettuati da Andrea nel corso degli anni, si è potuta sviluppare una mappatura delle coraisime trovate da lui in Calabria, che vi metto proprio in sovraimpressione. e per questa ragione si è potuto anche notare quali sono le differenze rilevanti presenti all'interno di questi fantocci rituali che si traducono in diverse tipologie di coraisima. Difatti, in base al paese di appartenenza, troviamo questa bambola vestita in modi diversi. spesso è appunto vestita di nero perché ha lutto, ma altre volte riprende il costume tipico da Pacchiana, del paese di provenienza e delle volte i costumi erano anche molto colorati, quindi la coraisima assume anche vestiti differenti. In secondo luogo, proprio come ci dice Andrea, possiamo trovare al posto dell'arancia una patata o un limone. importante appunto il simbolo della rotondità. E questa palla, così se vogliamo chiamarla, può essere posta al lato della bambola, così come avviene nel mio paese, sopra la testa, sotto la gonna, oppure al cuore. Infatti, in uno dei video che vi lascerò giù nell'info box che è stato realizzato da Andrea o in alcune video interviste, Andrea ci spiega proprio perché questi simboli siano spostati nei vari posti della bambola, che secondo me è anche molto molto interessante. Poi riscontriamo una morfologia differente proprio sulla costruzione della bambola, perché pur rimanendo quasi sempre appesa, viene costruita in diversi modi. Per esempio, nel mio paese io ho seguito la tradizione di una signora che l'appende in modo orizzontale, invece in moltissimi paesi si è registrata proprio la sua realizzazione in termini verticali, a colonna, con i simboli messi uno sopra l'altro, mentre da me appunto sono in orizzontale. Ogni simbolo ha uno suo spazio dedicato. Ricapitolando un po' le parole preziose che ci ha lasciato Andrea Bressi, possiamo ricavare delle funzioni rituali della bambola. Difatti, la corallisima ha innanzitutto una funzione calendariale. Come ci spiegava Andrea, noi abbiamo una patata, un limone o un'arancia che possono simboleggiare in realtà il mondo, alla quale sono infilate sette penne di gallina che contano le sette domeniche di quaresima. Quindi la funzione calendariale sta nello sfilare una penna per ogni domenica, fino ad arrivare alla domenica di Pasqua o sabato santo in cui si sfila l'ultima penna. Poi abbiamo una funzione importantissima che è quella apotropaica. In realtà la bambola viene vista anche come un amuleto ed è appesa. Appesa perché si fa contenitore dei mali che possono arrivare alla casa di chi espone questa bambola. La funzione magica della bambola consiste nel divenire un contenitore del male che può insidiarsi tra le mura domestiche durante il periodo di purificazione dello spirito e del corpo, proprio i 40 giorni della quaresima. Inoltre la funzione apotropaica viene fuori non solo dall'esposizione al di fuori della casa della quaresima, anche se qualcuno la fa in privato all'interno della propria abitazione, ma anche nella sua distruzione finale. Di fatti, ne parliamo dopo, spesso o almeno in antichità la bambola, così come il fantoccio di re carnevale, veniva distrutto, doveva essere distrutto in molteplici modi. Inoltre un ultimo punto, un'ultima funzione che può avere la bambola è quella appunto punitiva e di divenire monito per la comunità. Infatti, la coraissima diventa innanzitutto uno spauracchio per i bambini. Vi lascio giù nell'info box un video che ha realizzato Andrea in cui una signora spiega proprio cos'era la coraissima specialmente per i bambini. E in secondo luogo, in alcune coraissime, come quella che ho realizzato io, che appunto riprende la tradizione della signora Angelina, che abita qui vicino a casa mia, sono presenti dei veri e propri pesci. Lei utilizza una ringa e delle sarde, delle sardine, mentre io quest'anno ho deciso di prendere una coda di baccalà e due sardine, sempre secche, sotto sale, che fungono per l'appunto da monito riguardo il precetto di non mangiare carne durante i 40 giorni, come periodo di purificazione appunto dalle carni, qualunque tipo di carne, neanche astinenza a livello sessuale, ma anche da ogni tipo di eccesso, ecco. Quindi viene ribaltata proprio la prospettiva carnevalesca dei tre giorni di Baldoria per arrivare ai 40 giorni di purificazione della quaresima. Adesso passiamo alla fine della coraissima. Difatti lei, questa bambola, per tutti i 40 giorni resterà appesa alle intemperie, al freddo, al gelo, al sole, finché non si arriva alla Pasqua, ultimo giorno in cui la coraissima vive la sua vita da appesa, per venire, come vi dicevo prima, bruciata, spesse volte all'interno di un camino o anche appunto con un piccolo falò simile a quello realizzato per il funerale di carnevale, oppure, come ci dice ancora Filomena Stancati nel suo volume di Castroieri, ai bambini la coraissima doveva certamente sembrare una figura vivente, ma anche temibile in quanto dettava leggi ed imponeva una certa condotta ai ragazzini monelli o a quelli che si facevano venire l'acquolina in bocca, dinanzi ai salsicciotti che pendevano dalle canne al soffitto della cucina. E stratta l'ultima penna, i bambini si sentivano autorizzati ad impossessarsi della brutta, nera e collerica coraissima. Il pupazzo veniva strappato dalla finestra, buttato in strada, passato di mano in mano, finché coraissima, ridotta a mucchietto di stracci, era proprio da buttare. Ecco, quindi il fantoccio veniva strappato, doveva essere annullata la quaresima, doveva essere distrutta, il periodo di penitenza e di frustrazione in tutti i sensi era finalmente terminato, per arrivare poi a quella che è la rinascita, la rinascita della terra, della vita, del cerchio della vita di cui abbiamo parlato nello scorso video. Un'altra testimonianza molto importante sulla coraissima ci viene dalla ricercatrice Vittoria Butera, che troviamo nel suo volume La popolazione invisibile, indagine sulla calabria magica. In realtà con Andrea abbiamo parlato un po' di questo passo e lui mi ha spiegato, insomma, che una serie di questi passaggi sono, diciamo, dei rimaneggiamenti di altre opere che hanno preceduto questo testo. Ma io vi leggo lo stesso delle parti che secondo me sono rilevanti e utili al nostro video. Innanzitutto Butera inserisce la coraissima coraissima all'interno del capitolo sulle vecchie. Quindi già qui andiamo a comprendere come la figura della quaresima di coraissima si rifà ad un universo sicuramente pagano che riguarda proprio la figura della vecchia di cui abbiamo parlato nello scorso video relativo al calendario arcaico della seminagione. Quindi tra le figure delle vecchie deteneva un posto rilevante coraissima detta anche a Pupa. Gli albanesi di Calabria la chiamano Crash Mesh. Qui ci sarebbe da fare un bel excursus ma secondo me se scrivete da Andrea vi darà a lui tutte le coordinate. Identificata con la quaresima che pone fine al carnevale unico spezzone di tempo pagano superstiti all'interno della temporalità circolare e liturgica del cattolicesimo era percepita in modo ambivalente. In quanto simbolo di digiuno, assinenza, penitenze costringeva la privazione e mortificando il corpo favoriva la salvezza dell'anima. La gente la rappresentava con piccoli fantocci che appendevano a una corda legata tra due finestre o balconi contrapposti nei vicoli. La doppiezza semantica di questa figura era espressa dal suo corpo composito di aspetto umano nella parte superiore a guisa di una vecchia ammantata di nero e un mix tra vegetale e animale nella parte inferiore costituita da una patata nei paesi di montagna da un'arancia nei paesi della piana e della marina e io aggiungo da un limone su cui venivano infilate sette penne di gallina completavano l'abbigliamento, il fuso e la conocchia strumenti tipici delle antiche parche collegate al destino. Questo è un tipo di riferimento per me importantissimo perché noi vediamo come ci diceva anche Andrea la coraisima con fuso e conocchia simbolo del tempo e del destino e tra l'altro in moltissimi paesi dell'Abruzzo forse ci sono dei riti in cui diverse persone si mascherano da vecchie con forbice, con il fuso insomma per rappresentare le tre parche il frutto di forma rotonda era metafora del mondo sottoposto alla penitenza querisimale le penne erano finalizzate a riflettere sulla dinamica del tempo togliendone una ogni domenica di quaresima si faceva il calcolo dei giorni che dal tempo profano di carnevale correvano verso la sacralità della Pasqua giorno in cui si strappava l'ultima penna in alcuni paesi la gente conserva il fantoccio in una cassa panca per l'anno successivo in altri lo bruciavano per simboleggiare la fine delle privazioni in realtà bruciare il fantoccio e distruggere il fantoccio in chiave cristiana si può significare la fine delle privazioni in chiave pre cristiana è un rito propiziatorio e bruciando la bambola si bruciano anche gli spiriti maligni che magari durante tutti questi 40 giorni sono finiti all'interno della bambola se adesso qualcuno mi dovesse chiedere ma bruceresti mai la tua bambola? io direi di no perché giustamente la mia pur essendo fatta di stracci comunque di materiali tutti esclusivamente da recupero ecco non è una bambola che io butterei o che brucerei quindi forse questa simbologia rituale della distruzione della bambola ad oggi si sta perdendo perché tantissime persone preferiscono prendere la bambola riporla con cura in una cassa e conservarla per l'anno successivo la mia è una coraisima molto moderna veramente tanto moderna dovrebbe essere brutta dovrebbe essere creepy passatemi il termine perché deve indicare deve dare spazio alla simbologia della quaresima in questo caso io ho deciso di adornarla sia di bocca bella di una bocca bella ma anche di oro sul corpo con dei ricami perché volevo fosse così ma in realtà è uscita lei in questo modo io mi sono semplicemente fatta guidare dalle mie mani mentre realizzavo questo fantoccio ed è stata un'esperienza credetemi bellissima vi parlo adesso di due varianti che sono state ritrovate proprio nel mio comune di residenza e direi di partire con la coraisima della signora Angelina che è stata anche la prima che avete visto proprio all'inizio del video sulla carrucola la signora Angelina realizza la sua bambola vestita da pacchiana a lutto nello specifico col costume del mio del mio paese in realtà di un quartiere del mio paese che è Nicastro la coraisima della signora Angelina presenta una variante molto particolare perché lei la pende su una carrucola con tutti i suoi simboli quindi noi abbiamo il fuso e la conocchia la coraisima i pesci il limone con le penne e ogni settimana lei la sposta di un metro la fa camminare da un metro fino a che arriva al sabato santo al balcone della dirimpettaia e ovviamente state vedendo delle immagini per capire un po' quello che significa ed è un rituale molto particolare invece in un altro quartiere sempre della mia città San Biase venivano poste lo faceva ancora un signore fino a qualche anno fa che era un professore a un museo della memoria riguardo proprio le tradizioni popolari appendeva invece che una bambolina con tutti i simboli di cui vi ho parlato poc'anzi sette bamboline ogni domenica veniva sfilata una bambolina anziché la penna come vi ho detto prima dal limone ogni bambolina aveva un nome biblico li ho scritti perché me ne dimentico sempre uno a rotazione Anna, Susanna, Rebecca, Diana, Lazzara, Palma e Santa queste erano oltre che il nome delle bamboline anche il nome di ogni domenica della quaresima l'altro giorno ho anche incontrato la mia vicina di casa che è rimasta contenta della quaresima appesa al balcone mi ha detto proprio che ogni domenica della quaresima ha un nome specifico e mi ha elencato proprio questi qui quindi diciamo c'è anche una circolarità dei significati quindi questo qui è un rito molto particolare carico di magia e mistero al suo interno ricco di una simbologia assolutamente unica e inequivocabile spero che vi sia piaciuto spero veramente che vi inoltrerete nella scoperta delle bambole quaresima e soprattutto se ne vedete qualcuna nei vostri paesi so che tanti di voi che mi seguono fanno parte proprio del territorio calabrese o comunque del sud Italia vi prego di farmi sapere o contattare direttamente Andrea Bressi giù trovate tutte le sue pagine tutti i suoi riferimenti altri video contenuti consigliati che di solito vi lascio sempre giù così si può fare una mappatura ancora più grande proprio di tutte le bambole le bambole quaresima spero veramente tanto che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo ringrazio ancora Andrea Bressi per aver fatto parte di questo progetto e niente alla prossima ciao ciao ciao